inciabate in un sentiero si fa male 49enne si è avventurato sul sentiero che porta l'eremo di sant'antonio gnasco sul monte di portofino indossando un paio di sandali e mentre scendeva è scivolata finendo per fratturarsi una caviglia è successa ad una 49enne di origine giordana che ha probabilmente sottovalutato la difficoltà di percorrere il sentiero che si snoda lungo il monte di portofino si rivedono persone con calzature inadeguate sui sentieri del parco di portofino e a volte l'epilogo dell'escursione è un'infortunia è successo ieri nella zona dell'eremo di paraggi qui una donna giordana di 49 anni percorrendo il sentiero in discesa mentre indossava un paio di ciabate di un'ottima marca tedesca ma totalmente inadatte per affrontare un sentiero è caduta e ha rimediato la probabile frattura della caviglia sinistra sul posto il soccorso alpino e spelerogico della liguria con i vigili del fuoco la donna in vacanza nel tiguglio con il marito e il figlio è stata medicata una volta immobilizzato l'arto è stata caricata su barella e portata sulla strada dove l'ambulanza della locale croce rossa l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale di lavagna presente anche la polizia locale di santa margherita ligure i carabinieri di santa margherita ligure durante un servizio prelustrativo finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio hanno denunciato un diciottenne di nazionalità algerina per ricettazione e soggiorno illegale nel territorio dello stato il ragazzo con precedenti penali e irregolari sul territorio nazionale è stato fermato dai militari mentre era intento a forzare la portiera di un'autovettura parcheggiata sul lungomare rossetti con l'obiettivo di rubare oggetti di valore durante il controllo è stato trovato in possesso di diversi orologi occhiali da sole di varie marche per un valore totale di circa 1000 euro dei quali non ha saputo giustificare il possesso gli accertamenti successivi hanno confermato che gli oggetti avevano provento di furti avvenuti poco tempo prima parte della rifluttiva è stata già restituita ai legittimi proprietari i carabinieri di recco hanno denunciato un quarantenne di nazionalità italiana ritenuto responsabile di un furto in abitazione commesso nello scorso mese di luglio l'uomo si era introdotto in una casa di un suo conoscente sottraendoli fraudolodamente le chiavi e approfittando della conoscenza pregressa dei luoghi e della presenza di denaro contante in casa aveva rubato circa 2000 euro nascosti in una valigia la polemica estiva è nata come sempre sui social e servita a finire nel mirino questa volta è un ristorante di camogli dove un piccolo locale è stato criticato da alcuni avventuri per aver messo l'obbligo di ordinare almeno due portate a testa una situazione che ricorda quella di un altro ristorante ma ostuni e che aveva tanto fatto discutere la titolare del ristorante camogliese spiega semplicemente che è stata una scelta non facile ma fatta per riuscire a mantenere un livello di qualità senza dover tagliare sui prodotti o sul personale considerando le dimensioni del ristorante 18 coperti in tutto e considerando che il locale non fa doppio turno quindi i clienti a cena possono rimanere quanto tempo vogliono per questo motivo al contrario dell'episodio pugliese non ci sarà alcun ripensamento da parte della proprietà almeno per il momento e chi vorrà mangiare in quel ristorante dovrà ordinare almeno due portate a testa prorogato a chiavere il termine per l'iscrizione nel rinnovo del servizio di riflessione scolastica per l'anno 2024-2025 per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria c'è tempo fino alle ore 12 del 13 settembre per presentare la domanda il rinnovo sarà accettato solo ed esclusivamente se il saldo relativo all'utenza mensa di tutti gli alunni del nucleo familiare sarà pari o superiore a 0 euro pertanto chi ha un saldo negativo e non ha ancora saldato il debito vedrà rifiutata l'iscrizione i bambini non iscritti o con rinnovo non completato non potranno usufruire del servizio di riflessione scolastica coloro che richiedono un'esenzione dal pagamento devono avere un isee inferiore o pari a 5.000 euro l'isee aggiornato deve essere presentato ogni anno solare entro il 28 febbraio all'indirizzo mail mensa scolastica chiocciolacomune.chiaveri.g.it in caso contrario verrà applicata la tarifa standard per procedere all'iscrizione al rinnovo è necessario collegarsi assinto internet del comune di chiave ed effettuare una distanza separata per ogni singolo alunno in caso di presenza di fratelli per ricevere supporto alla compilazione è possibile recarsi presso l'ufficio informa giovani previ appuntamento al numero 0185 30 68 14 gli utenti dovranno comunque essere in possesso dell'identità spi ha vinto 1 a 0 il gubbio quindi il risultato è giusto io lo penso così se poi devo andare a guardare l'andamento della gara e dire che se i 90 minuti era una squadra che doveva vincere posso non essere d'accordo tutto qua i primi 20 minuti abbiamo sofferto penso la personalità del gubbio perché se guarda la lista delle mie squadre della mia squadra a 20 minuti alla fine e loro entra tommasini signorini e franchini e a me entra 2005 e 2006 quindi ritengo che è normale che vengo a gubbio sono 0 a 0 il gubbio deve spingere per vincere la partita e e lo fa abbiamo corso se vado a vedere però nel perdominio che ha avuto il gubbio nei primi 20 minuti se io vado a vedere i pericoli corsi è stato uno su un bel taglio di non mi ricordo se corsinelli o d'ursi corsinelli il mio portiere ha fatto una parata importante penso che che anche loro abbiano corso un rischio un rischio grosso e però io ai miei non posso che fargli i complimenti cioè è una squadra giovane che ha voglia e che a me diverte allenare arrivo dal settore giovanile nel settore giovanile a me piace vedere una squadra che gioca e mi piace vedere una squadra giocare perché penso no 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 grazie no quello grazie ma perché io penso che solamente attraverso il gioco si possono ottenere dei risultati e abbiamo provato abbiamo provato a farlo e avevamo di fronte comunque una squadra mister che dire buona la prima una bella entella per idee per voglia per aggressività per intensità una vittoria meritata contro un'ottima squadra sì una vittoria meritata purtroppo non rotonda per tutte le occasioni che abbiamo avuto al cospetto di una formazione forte primo tempo il milan ha fatto meglio di noi sotto l'aspetto del gioco pur avendo noi avuto tre occasioni importanti poi nel secondo tempo ritengo che la mia squadra abbia dominato il lungo e il largo e abbia creato tante occasioni per per fare gol purtroppo abbia fatto un solo gol ma ne avremmo meritati sicuramente avremmo meritato sicuramente un risultato più più rotondo parlavi di analisi della partita primo tempo si è equilibrato l'entella ha avuto le occasioni milan andava a 3 mila anche come intensità palleggiato anche molto bene perché cosa hai detto la squadra a fine primo tempo perché ne ha ripreso stati 20 minuti di una feroce agonistica veramente di rara intensità dell'entella ma ho corretto quello che secondo me andava corretto perché non riuscivamo a a dare la possibilità ai nostri difensori di essere aggressivi perché lavoravamo non in maniera corretta con gli attaccanti quindi ho corretto quello e ho dato certezza a loro che che la partita sarebbe cambiata se avessimo fatto questo questo accorgimento e così è stato sono contento perché poi dopo quando tu dai degli imputi e il risultato non numerico ma di la prestazione cambia diventi sempre più credibile come se nel calcio poi si può vincere si può perdere ma stasera l'entella manda un messaggio importante a se stessa e anche ai suoi tifosi di essere una squadra con una voglia con aggressività differente rispetto a quella della passata stagione noi dobbiamo farci perdonare quelli che c'erano nella passata stagione un un campionato al di sotto di quelle che erano le aspettative di tutti i nostri tifosi della società e anche nostra quindi i nostri tifosi dobbiamo essere noi a coinvolgerli sempre di più per fare in modo che che quando l'entella gioca qui al comunale loro devono essere certi che troveranno una squadra che non mollerà mai ti chiedo un'ultima cosa quanto è bello giocare davanti a 2500 persone dobbiamo fare in modo che questi 2500 aumentino con le nostre prestazioni con i nostri risultati sta a noi fare in modo di coinvolgere per passione per voglia di vedere calcio per incitare i propri giocatori i nostri tifosi